Passiamo dall'edificio. Sì, l'ultima volta ha funzionato benissimo. Scusa, era per dire. Cosa? Non sento niente. Ok, veloce. Arrivano! Lo so! Va bene, va bene, via! Hai qualcosa sulla scarpa. Che schifo. Ok, come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Così la rientra è stata così ammune. Beh, questo lo dice lei. Come sei stata morsa? Si è incontrato un effetto nella zona o vuol dire che sei andata dove non dovevi? Sì. Sono scappata di nascosto. Ero nel collegio militare. Sei scappata? Volevo esplorare la città. Ho incontrato un effetto nel centro commerciale. L'accesso è vietato. Come accidenti il fatto è entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, mi ha morso e tutto qui. Capisco. Eri con Marlin quando ti hanno morso? No, le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Stava per farlo. Spero stai bene. Te lo ho detto. La stai bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Ok, occhialo a testa. Forza! Via, 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 via! Jail! Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess? Corri! Corri! Avanten! Grazie.